Buongiorno, direttore. Cos'è gli uffizi? Cos'è? Cos'è? Un'esposizione di cose antiche. Che poi non è solo la cultura degli italiani, ma è la cultura del mondo occidentale. Il Rinascimento è figlio della nostra cultura e noi siamo figli del Rinascimento. Quanta tenerezza, mi fa il centauro. Mi ci vedo molto vicino. Credo che è importante che ci sia in mano di diverse strange. La storia è un'escalza di 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 un'escalza. Mi sono molto aware che ci stiamo all'un dei più importanti musei del mondo. Noi ci prendiamo affanno del nostro contemporaneo ma dovremmo imparare. Le opere d'arte sono sagge come filosofi. Il nostro corso gratuito è per il nostro corso gratuito e per il nostro corso gratuito.